Ciao Gianluca, benvenuto e grazie per aver accettato di fare due chiacchiere con noi di numero verde 800. Dopo una lunga carriera come responsabile commerciale in varie aziende, a marzo del 2020 ti sei ritrovato senza lavoro a causa della pandemia. Invece di perderti d'animo, hai sfruttato le tue conoscenze per creare un nuovo brand, Casa Sterile. Ti va di raccontarci un po' la tua storia? Sì Maria, grazie innanzitutto per avermi invitato a questa intervista e come tu hai accennato a marzo in piena pandemia mi sono trovato senza lavoro e quindi chiuso in casa come tutti ho cominciato a pensare che cosa si poteva fare innanzitutto per rendersi un po' utili per fronteggiare l'emergenza e poi ovviamente anche per lavorare. Proprio in quei giorni mi arrivò la telefonata di un mio amico imprenditore che da molti anni lavora con la Cina, il quale mi proponeva di sviluppare la parte commerciale della sua azienda che stava importando degli ozonizzatori e io chiesi a lui un giorno di tempo per rifletterci e durante quella notte dissi ma io anziché mettermi a vendere gli ozonizzatori forse posso offrire un servizio di sanificazione e così in quella notte che ho trascorso totalmente in bianco ho cominciato un po' a riflettere a pensare e diciamo c'è stato proprio questo 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 lampo questa esplosione ed è nato questo marchio casa sterile e quindi da lì diciamo in maniera molto difficoltosa però al tempo stesso con un pizzico di fortuna e anche con l'aiuto di alcuni consulenti abbiamo fatto tutta una serie di verifiche anche amministrative perché come sai queste attività vengono erogate soltanto da aziende certificate abbiamo verificato tutti i vari passaggi burocratici abbiamo messo tutto a posto e siamo partiti in piena pandemia con delle difficoltà enormi perché poi io ho importato queste macchine che dovevano venire dalla Cina che erano state bloccate nella alla dogana tutta una serie di difficoltà però poi alla fine siamo partiti e diciamo che l'avvio è stato bruciante come come puoi immaginare c'era una richiesta enorme di questi di questi servizi di sanificazione e siamo adesso stiamo crescendo molto bene e diciamo all'interno di questo processo di crescita si è innestato il vostro numero verde a me piace condividere la tua storia perché penso sia un esempio per altri imprenditori in difficoltà e quindi ecco ci ci tengo che tu condivida con noi appunto anche le tue esperienze i tuoi sentimenti anche in quei giorni diciamo di cambiamento di scelte importanti sono stati sicuramente dei giorni difficili nella fase iniziale perché io non sono più un ragazzino molta esperienza però sai poi rimettersi nel mondo del lavoro nel ciclo produttivo non è non è sempre semplice e quindi io vorrei rivolgere un invito a tutti coloro che magari hanno vissuto questa esperienza di perdere il lavoro dicendo ovviamente di non di non perdersi mai di coraggio nella lingua cinese la parola crisi viene rappresentata da un ideogramma che ha un doppio significato dalla parte minaccia e dall'altra opportunità quindi io quello che posso dire cercate sempre di guardarvi intorno non perdetevi d'animo sfruttate sempre le opportunità che che il momento vi offre perché le opportunità ce ne sono sempre tante basta un attimo come dire riflettere concentrarsi restare lucidi e l'opportunità viene viene fuori tra l'altro diciamo la mia azienda sta crescendo per cui se qualcuno che ci ascolta a voglio dire sta cercando lavoro ha bisogno di un aiuto ha bisogno di una mano può mandarmi il curriculum e valuteremo sicuramente tutte le posizioni che ci arriveranno bene bene ottimo già luca poi tu ad un certo punto scusami dopo che hai creato il tuo brand hai scelto e è deciso di utilizzare un numero verde 800 qual è stato il motivo che ti ha spinto a prendere questo a fare questa scelta allora io ho lavorato in molte aziende in fase di start up quindi diciamo la creazione la elana e lancio di un'azienda per me non è un'esperienza nuova e quindi fin dagli anni 90 io ho adottato sempre il numero verde le mie aziende quindi per me non è un uno strumento nuovo è un strumento che conosco abbastanza bene che mi ha sempre dato delle grandissime soddisfazioni e quindi anche per questa azienda che è tutta quanta mia quindi che non condivido con altri soci come in passato assolutamente una delle prime cose da fare era quella di dotarsi di un numero verde e così abbiamo fatto io il numero verde come vedi lo riporto dappertutto questo è il mio obiettivo da visita personale questo qui è il marchio casa sterile e poi anche sul volantino che noi distribuiamo in migliaia di copie sia in maniera cartacea che online come vedi qui c'è il vostro fantastico numero verde che è una porta d'ingresso io vedo il numero verde come una porta di ingresso per tutti i clienti potenziali clienti che vogliono informazioni vogliono interagire con noi e da ovviamente un'immagine dell'azienda completamente diversa potrei dirti che nel mio settore ci sono aziende blasonate aziende che lavorano da decenni con la committenza pubblica con gli enti pubblici che fatturano veramente cifre molto importanti e nessuna di queste aziende al numero verde quindi è stato anche un modo come dire di distinguersi dalla dalla concorrenza che forse non so per quale motivo ma magari noi lo andiamo a raccontare non ha percepito l'importanza di avere un numero verde e poi i grandi grandi vantaggi ok c'è quindi tu ci ci stai dicendo che hai scelto di utilizzarlo per il tuo nuovo brand sia perché in passato nei tuoi precedenti ruoli ecco lo hai sempre utilizzato ma anche perché secondo te è un elemento per per differenziarti dai tuoi concorrenti in questo momento il numero verde ci differenzia proprio per questo le persone si sentono libere di chiamarci magari c'è anche qualcuno che chiama e non ha le idee chiare però tu hai un contatto con questa persona interagisci in tempo reale e quindi hai tutto il tempo di poter studiare questa persona di poter creare empatia con questa persona di ascoltarla di dare delle risposte di dare delle informazioni cosa che invece non avviene sempre con un altro canale che abbiamo che è il canale messenger e il canale whatsapp il canale messenger per esempio è assolutamente asincrono nel senso che l'interazione non avviene quasi mai in tempo reale e infatti non produce risultati concreti risultati tangibili con il numero verde questo problema è stato risultato bene bene ce l'ho già fatto vedere però te lo chiedo in in maniera più e più chiara e come ha integrato numero verde 800 nella tua strategia di marketing e comunicazione dici qualsiasi cosa cioè se lo inserisci nell'online nel cartaceo se si dove allora guarda il numero verde che noi abbiamo adottato il presente praticamente ovunque come ho fatto vedere prima sia sul materiale cartaceo e noi utilizziamo sia sull'online quindi sulla home page del nostro sito web e anche sulla pagina facebook di casa sterile compare sempre il numero verde e addirittura abbiamo fatto anche degli invi di sms e messaggi promozionali dove noi suggeriamo proprio come portone come porta d'ingresso alla nostra azienda il numero si 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 quindi noi ovunque possiamo mettiamo il numero verde abbiamo anche personalizzato le nostre macchine i nostri ozonizzatori con degli adesivi mettendo il numero verde e abbiamo addirittura personalizzato le borse per trasportare gli ozonizzatori su cui abbiamo messo il numero verde fra un po' ci consegneranno delle grosse calamite da poter attaccare sulle nostre automobili su cui comparirà il nostro brand è il numero verde quindi sai tranquilla maria che numero verde compare dappertutto bellissimo 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 e tu prima hai detto che grazie al numero verde hai un contatto più diretto ed immediato con il con il chiamante e secondo il tuo utilizzo la persona che chiama al numero verde quanto è pronta poi alla conversione c'è al momento di acquisto ma guarda in alcuni casi diciamo nel 50 per cento dei casi è un cliente che ha già presente l'esigenza del problema e sta cercando la soluzione quindi in quel momento la conversione è semplicissima e si arriva facilmente dopo pochi minuti noi di solito a telefono facciamo un po di domande su quelle che sono le esigenze del cliente dopodiché praticamente fissiamo già l'appuntamento e mandiamo il tecnico in altri casi le persone non sono ben informate diciamo sanno di avere un problema ma non conoscono la soluzione e quindi vogliono essere un po più informate su come avviene la sanificazione sul perché devono adottare la sanificazione con ozono rispetto ad altre forme di sanificazione con prodotti chimici e quindi noi ovviamente li impieghiamo un po più di tempo e spieghiamo che per esempio uno dei vantaggi principali di casa sterile è che noi facciamo una sanificazione con ozono lo zone un gas naturale non utilizziamo prodotti chimici quindi non vengono rilasciati dei pericolosi residui chimici che possono risultare nocivi ma ti dirò di più addirittura ci hanno telefonato degli studi professionali i quali c'erano rivolti a delle imprese che avevano sanificato lo studio i loro studi con dei prodotti chimici con una nebulizzazione che aveva lasciato una patina di polvere bianca su tutti su tutti i fascicoli su tutte le pratiche su tutte le scrivanie e ovviamente questo non andava per niente bene perché immaginate uno studio notarile o uno studio di avvocati di consulenza legale dove i fascicoli cartacei sono tantissimi e su questi fascicoli si era depositata questa polvere bianca e quindi in quel caso noi siamo andati lì abbiamo prima ripulito tutto e poi abbiamo fatto la nostra sanificazione con l'ozono e il cliente ovviamente era contentissimo e io invito queste persone questi clienti a passare ad altri non il mio numero di cellulare ma il numero verde perché il cliente è sempre invogliato a telefonare un numero a chiamare un numero verde perché sa che è gratuito e quindi è più facile che questa persona prende il telefono in mano e ci chiami ottimo ottimo cioè quindi tu ci sei dicendo che grazie alla chiamata al numero verde hai anche la possibilità di è l'opportunità di risolvere quelli che sono i dubbi di un potenziale cliente giusto che magari ha delle domande e non trova una risposta in quello che può essere il materiale come la mail il sito e altro io credo che a volte maria scatti anche un meccanismo derivante dal fatto che l'essere umano a volte pigro l'essere umano e pigro quindi mare anziché andare sulla pagina web e leggere che cos'è l'ozonizzazione l'ozono è un gas naturale eccetera chiama il numero verde dice sì vi ho visto su internet mi spiegate meglio che cosa fate e allora noi stiamo lì e gli raccontiamo tutto quindi diciamo che il numero verde per quanto possa sembrare incredibile ma di fatto ti posso garantire che è uno strumento che piace ai pigri magari invece di leggere esatto loro chiamano stanno facendo una chiamata si stanno facendo una chiamata gratuita per cui stanno lì e poi ascoltano e poi ovviamente noi con la nostra abilità commerciale dopo aver dato delle spiegazioni iniziali iniziamo subito a fare delle domande per profilare il cliente e per ritagliare poi su misura un'offerta una proposta che si adatta alle esigenze del cliente come sai il pannello di controllo ti permette di personalizzare il funzionamento del tuo numero verde 800 quali sono le funzionalità che sfrutti maggiormente allora la funzionalità principale che a noi piace molto è quella diciamo del messaggio audio che ci avvisa che sta arrivando una telefonata dal numero verde questo perché noi ovviamente deviamo le chiamate in ingresso su un telefono cellulare che può essere il mio piuttosto che quello di un collaboratore e quindi è importante sapere che la chiamata ingresso provenga dal numero verde proprio per essere pronti a rispondere in maniera adeguata tipo buongiorno casa sterile sono gianluca come posso aiutarla quindi questa è la è la funzionalità che sfruttiamo maggiormente e poi un'altra funzionalità è quella che ci avverte se ci sono state delle chiamate che sono andate perse perché magari il nostro operatore era impegnato con un cliente durante una conversazione nel frattempo ha chiamato un altro potenziale cliente il quale dopo un po' di secondi ha riattaccato questo sicuramente di recuperare anche questi clienti ok sì perché sempre di più la gente ha sempre meno tempo e pazienza quindi è possibile che chiama dopo due o tre squilli già butta giù perché non ha più la pazienza di stare lì ad attendere si conferma è così i clienti sono pigri e impazienti bene benissimo come se si possono creare anche delle delle fasce orarie tipo imposti che il tuo numero verde riceve ad esempio solamente da lunedì al venerdì dalle 9 alle 14 utilizzi questa funzionalità nel tuo caso o lo tieni attivo 24 ore su 24 ogni giorno sempre noi diciamo uno dei nostri cavalli di battaglia uno dei messaggi che amiamo dare subito ai nostri clienti al mercato che noi siamo operativi 24 ore su 24 sempre 7 giorni su 7 e quindi diciamo in linea con questa filosofia commerciale noi vogliamo che il cliente anche se ci chiama la domenica o il sabato sera deve poter parlare con qualcuno ed è successo è successo per esempio che uno studio medico che ha un servizio di sanificazione in abbonamento con noi cioè noi ci richiamo in questo studio medico ha delle date stabilite periodicamente per fare la sanificazione non solo della sala d'attesa ma anche di tutti i singoli studi medici singoli ambulatori dove vengono ricevuti i pazienti abbiamo ricevuto una chiamata il sabato sera dove ci veniva detto che una paziente che era stata nell'ambulatorio era risultata positiva al covid e quindi ci veniva richiesto di fare un intervento straordinario aggiuntivo la domenica perché lunedì mattina l'ambulatorio doveva riaprire ecco prova a immaginare se il nostro numero verde non fosse stato raggiungibile il sabato e la domenica queste persone sarebbero secondo me si sarebbero trovate nel panico assoluto con la preoccupazione di non dover di non poter riaprire l'ambulatorio lunedì mattina cosa che invece per fortuna è avvenuta noi siamo stati felici di aver dato un aiuto al nostro cliente quindi tutto si è risolto nel migliore dei modi bene benissimo benissimo cioè quindi tu fai anche un vostro punto di forza anche un elemento differenziante se vuoi il fatto che non avete un giorno di chiusura e siete e siete sempre reperibili proprio grazie al numero verde siamo sempre reperibili h24 sette giorni su sette ok bene bene puoi dirci qual è stato l'impatto di numero verde 800 in termini di vendite ma guarda l'impatto l'incremento è stato sicuramente significativo diciamo che secondo me una stima e al centesimo non riesco a dartela però diciamo che l'incremento è stato sicuramente fra il 30 e il 40 per cento ripaga ripaga ampiamente l'investimento che abbiamo fatto assolutamente è importante che tu parli di investimento perché un concetto che spesso non è recepito immediatamente è il fatto che il credito del numero verde deve essere visto come un investimento piuttosto che come un costo quindi è importante che lo hai detto sì 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 è assolutamente un investimento per noi e come tutti gli investimenti da il suo ritorno bene bene e da qui ti chiedo hai riscontrato anche quindi di conseguenza un aumento di fatturato grazie all'utilizzo di numero verde 800 sì 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 come ti ho detto prima l'incremento del fatturato si può stimare fra il 30 e il 40 per cento prima lo hai accennato adesso te lo chiedo in maniera più esplicita per quanto riguarda la reputazione aziendale quindi del tuo brand secondo te hai ottenuto dei benefici con l'utilizzo di numero verde 800 se sì quali? ma guarda assolutamente la risposta è sì nel senso che proprio nella fase iniziale nella fase di start up noi abbiamo iniziato ad adottare un numero di cellulare e abbiamo stampato anche del materiale con il numero con questo numero di cellulare non col numero verde e io sono certo che non venivamo percepiti dal potenziale cliente come un'azienda strutturata come un'azienda affidabile il numero verde sicuramente conferisce a noi e alle aziende che lo utilizzano un'immagine di azienda strutturata di azienda organizzata già il fatto che il cliente quando chiama magari sente un audio dove dice il patente siamo di casa sterile e siamo impegnati con un'altra conversazione e le chiediamo di attendere questo è sicuramente uno degli strumenti che utilizzano le grandi aziende quindi assolutamente per la brand reputation il numero verde è importantissimo è la riprova del fatto che lo abbiamo stampato dappertutto ormai ovunque ti giri se c'è il macchio casa serie c'è il numero verde bene bene cioè quindi tu ci dici che prima quando utilizzavate un numero di cellulare non davi la percezione al tuo cliente finale di essere grande e strutturato adesso invece hai maggior credibilità nei confronti di quello che è il tuo potenziale cliente e questo io penso sia scusa scusa mi dicevo volevo aggiungere questo è un altro aspetto importante che veniamo percepiti come un'azienda nazionale ok questo è molto importante è molto importante ci siamo staccati diciamo dalla territorialità casa sterile è nata a Napoli però noi riceviamo chiamate anche da Salerno, da Caserta, da Avellino e tra l'altro notizia dell'ultima ora se è la prima a saperlo noi questo mese sbacchiamo anche a Milano perché ci sono molte richieste su Milano ci sono delle persone che addirittura ci hanno telefonato per dire ho comprato casa, l'ho ristrutturata però prima di entrare in casa voglio che questa casa venga sanificata e quindi a questo punto noi apriamo anche su Milano e quindi chiunque in Italia vuole entrare in contatto con noi utilizza sempre lo stesso numero che il numero verde questo è veramente importante per noi un momento di crescita importante bene questo è un concetto fondamentale anche uno di quei concetti che non sempre è percepito in poco tempo che utilizzare un numero verde quindi non un numero fisso quindi non mostri il prefisso e oltretutto non mostri neanche un cellulare ti dà l'immagine di essere una realtà che non ha confini quindi che opera su tutto il territorio esatto, esatto, è proprio così bene consiglieresti il numero verde 800 come strumento di marketing e vendite? assolutamente sì Maria come ho detto all'inizio di questa intervista io fin dagli anni 90 ho adottato il numero verde nelle aziende nelle quali ho lavorato e mi sono occupato come sviluppo commerciale e credo che sia veramente ormai uno strumento imprescindibile oggi noi viviamo con i telefoni in mano ma non sempre come ho detto prima la comunicazione che avviene attraverso una chat o attraverso il web è una comunicazione in tempo reale il numero verde è più che mai uno strumento attuale e la crescita anche dell'utilizzo di questo strumento testimonia che è uno strumento tutt'altro che superato tu prima hai detto che il numero verde lo mostri quasi ovunque no ovunque no ovunque ma anche quasi ovunque ok anche hai detto sui vostri mezzi sulle borse e altro lo utilizzi anche come canale di fidelizzazione per coloro che sono già dei tuoi clienti quindi immagino un cliente dove sei già stato e hai già fatto il tuo lavoro e magari dopo x tempo ha bisogno di una domanda perché ha un dubbio sì io invito sempre tutti ad utilizzare il numero verde perché magari domani questo numero verde è stradato su un'altra linea telefonica dove risponde il mio collaboratore quindi come puoi immaginare io sono spesso a telefono quindi la mia linea è spesso occupata e quindi provo per non avere questi inconvenienti io dico a queste persone chiamate il numero verde perché se non vi rispondo io vi risponde qualcun altro in conclusione una domanda che riassume un po' tutto quello che ci siamo detti secondo te perché un imprenditore o un professionista dovrebbe attivare il numero verde 800? guarda oggi il professionista è anche imprenditore perché l'evoluzione rapida del mercato dell'economia impone al professionista di essere anche imprenditore di se stesso e quindi come imprenditore ogni investimento viene valutato sulla base dei costi e dei benefici allora da parte mia la mia esperienza personale che è un'esperienza di 30 anni e non di un giorno è questa io ho sempre avuto dei grandissimi benefici da questo investimento che ho fatto fare nelle aziende nelle quali ho lavorato per cui l'invito che vorrei rivolgere a chi ci ascolta è quello di adottarlo immediatamente perché i costi sostenuti sono veramente ridotti rispetto ai benefici che questo strumento riesce a dare non soltanto in termini commerciali come abbiamo detto prima ma proprio anche in termini di reputazione, di immagine quindi di farlo subito perché dà troppi vantaggi rispetto al costo che bisogna sostenere per averlo Gianluca grazie per il tuo tempo, grazie per aver condiviso con noi la tua storia, la tua esperienza, i tuoi feedback e alla prossima grazie, ciao Maria, ciao a tutti ciao, ciao Gianluca grazie per aver visto queste video intervista se sei arrivato fino alla fine è perché credi che questo strumento può aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi e soddisfare necessità pratiche non c'è più tempo da perdere devi subito attrarre contatti qualificati, acquisire clienti nuovi e monetizzare il più possibile da loro numero verde 800 è semplice ed immediato nell'utilizzo non richiede nessuna installazione sulle tue linee fisse o mobili grazie al suo evoluto pannello di controllo puoi personalizzarlo in autonomia inoltre hai anche a disposizione il centralino verde VR e la segreteria telefonica integrata numero verde 800 è stato pensato e progettato per l'imprenditore quindi non richiede conoscenze tecniche per settarlo attivarlo è facilissimo vai su numeroverde800.com scegli dai pacchetti a disposizione il numero più mnemonico per te ci clicchi su e segui la procedura guidata nello spazio dedicato inserisci questo codice promozionale per riservarti dei vantaggi esclusivi se invece vuoi approfondire l'argomento e scoprire di più sul numero verde 800 allora contattaci gratis all'800 090 678 per richiedere una chiamata strategica con un nostro consulente specializzato grazie a tutti